Il Corriere di Brescia riporta la notizia del nuovo incontro tra Raffaella Fico e Mario Ballotelli. La neocantante ha appena presentato il singolo Rush nel corso della trasmissione quelli che il calcio e il campione del Milan si sono rivisti all'interno del Tribunale di Brescia per stabilire un calendario di visite per Pia. Da quando Mario ha riconosciuto la paternità della bambina, Raffaella si è detta disponibile a fare il possibile affinché padre e figlia potessero conoscersi. Trascorsi diversi mesi da allora, finalmente le cose starebbero muovendosi nel verso giusto. Mario e Raffaella sono finalmente riusciti a incontrarsi civilmente, senza che i drammi che li hanno coinvolti e visti contrapposti, soprattutto in tv, avessero la meglio. Il calciatore ha intenzione di fare da padre a sua figlia e si sta impegnando in questo senso affinché la bambina possa avere la possibilità di conoscerlo. Raffaella favorisce questi incontri, la Fico si è sempre detta più che d'accordo. Anche per lei è importante che Mario e Pia possano trascorrere del tempo insieme. Ancora non è chiaro quando e come padre e figlia potranno vedersi e se Ballotelli potrà incontrarla da solo o esclusivamente insieme alla Fico e ai suoi familiari. Va detto che la bimba vive con sua madre fin dalla nascita, Mario è entrato nella sua vita solo da poco tempo. Ciò che più conta è che i due genitori siano riusciti a trovare finalmente un accordo in virtù del quale Ballotelli ha potuto conoscere Pia. Di tempo, entrambi ne hanno perso già troppo. Che se ne frega!